Seguo il mio ricorso attraverso le mail che mi vengono costantemente mandate dall'Associazione, dalla Consulcesi e so che siamo già al terzo grado di giudizio e aspettiamo fiduciosi. Sono venuto a contatto con la Consulcesi attraverso l'informazione di altri colleghi già iscritti e poi ho contattato direttamente l'Associazione per partecipare a dei congressi fin dal 2004. Siamo stati contattati da una signorina per cui noi dovevamo venire a Roma per giornate medico-legali, di conseguenza ci venivano proposti dei servizi eccellenti e io lì ho deciso di aderire. Un riferimento certo per noi medici e soprattutto medici legali, ma anche perché poi nella fase iniziale facevo parte del corpo docente dell'Associazione e quindi si era creata poi questa sinergia che è cresciuta col tempo, poi hanno continuato a seguire me, ma devo dire che è sempre stata molto vicina a tutti noi. Consiglierei a un collega di fare ricorso alla Consulcesi.